Il reattore raggiungerà uno stato super critico Sento esplodere roba Grazie Tu tanti radiazioni E' vero perché mi aveva detto che là vicino ci sono le radiazioni Non ho capito però perché esplose di nuovo Capsula 3 Abbiamo la nostra coordinata Stiamo sistemando il nostro SIGLIDE di emergenza Quindi se arriveremo tardi al ritrovo non preoccupatevi E' un dispositivo per il trasporto personale Progettato per l'uso in ambienti oceanici In grado di raggiungere velocità fino a 36 km orari Mentre questo Seamot è semplicemente Una specie di piccolo sommergibile Capsula 3 L'equivaggiamento riferisce che il loro SIGLIDE è danneggiato Ok là mi ha dato le coordinate della loro capsula Quindi adesso ci andiamo subito Eccola Ecco la capsula Infatti non c'è nessuna Scatola dati Bussola Ah frammento di SIGLIDE Finalmente Oddio che bello questo posto Squalo osseo Frammento di SIGLIDE Frammento di SIGLIDE Due di tre Eccolo Ultimo Perfetto Oh ma lì La raga laggiù c'è un'altra Un'altra capsula No radiazioni rilevate Dai allora provo a fare veloce Ok vi dobbiamo la città Non ce la faccio Dai 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 come mi ha segnato un'altra capsula però è a mille metri siglide oh finalmente mostra mappa posso mettermi la mappa sul siglide ok interessante 30 secondi basta basta salgo 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 no è pieno qua sono morto no è pieno qua